Giovane ma preparata a merito delle sue attività quotidiane come primatrice nelle carceri, Giulia Minunzio il prossimo 4 marzo si candiderà con le liste di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio in coppia con il consigliere uscente Cangemi. A 26 anni ha le idee molto chiare. La scelta rispetto a questa candidatura in realtà deriva da una proposta che mi è stata fatta da parte del consigliere Giuseppe Cangemi con il quale da molto tempo collaboro e che ha sempre sostenuto la serie di attività che svolgo all'interno del sociale.